Intro Ciao a tutti ragazzi e bentorni a stati gaming Oggi siamo su Octopath Traveler E venisi non sarà un gameplay normale, divertente come tutti gli altri Ma sarà più una piccola recensione del gioco Perché faccio questa cosa? Perché era tantissimo tempo che aspettavo questo gioco Quindi mi fa piacere condividerlo con voi Perché è uno dei giochi che sto apprezzando di più praticamente in questo anno E uno dei titoli che da me era più attesi Octopath Traveler è un RPG vecchio stampo Quindi vecchio stile come si può dire insomma Come i buon vecchi Final Fantasy 4, 5, 6 E poi ha un non so che che mi ricorda praticamente Ragnarock Online Perché gli hanno fatto questa grafica tridimensionale Praticamente per quanto riguarda tutto il mondo di gioco E bidimensionale per quanto riguarda i nostri piccoli personaggi Gli effetti delle battaglie sono una figata Poi dopo ve le farò vedere E le battaglie sono rigorosamente a turni Una cosa che mi piace tantissimo del gioco è il fatto Che andremo ad impersonare 8 personaggi diversi Che eccoli qua Vedete qui praticamente Ogni personaggio ha la sua classe Le sue abilità A partire dal mago Al sacerdote Ladro Guerriero Arciere E cose varie E ogni personaggio ha una caratteristica Unica Per affrontare la storia Logicamente si partirà con uno dei personaggi Ma poi la storia comunque si Vi permetterà di intracciare con tutte Con tutte le altre storie Dei personaggi Perché ogni personaggio ha il primo capitolo praticamente che è a sé Quindi il primo capitolo della storia è singolo di ogni personaggio Ma poi si attaccherà praticamente alla storia principale del gioco Io ho cominciato nelle terre boschive con l'arciere Che ha una meccanica fighissima che poi più tardi vi farò vedere E adesso sono praticamente arrivato nella terra vicina Nelle terre glaciali Per prendere Ophilia Che è praticamente una sorta Non ho ancora capito che cos'è Perché sto facendo adesso la sua storia Comunque dovrebbe essere una sorta di prete Un sacerdote Allora ragazzi io non ci farò una serie su questo gioco Perché il gioco come potete ben sapere Insomma per quanto riguarda gli RPG Sono veramente molto lunghi Anche se la storia di questo gioco è veramente molto appassionante Quindi potrebbe essere un ottimo gioco Se avete la possibilità di giocarlo Perché sono stato su Nintendo Switch Quindi ragazzi voglio fare una cosa Scrivetevi voi nei commenti Se volete una serie su questo gioco Oppure no Sappiate che comunque si andrà veramente molto a lungo Non ricomincerò il gioco da capo Quindi riprenderò da dove sono E farò alcune parti offline Ma la parte di storia principale Ve la terrò sempre nei video Vi spiegherò praticamente quello che è successo Che era successo veramente poco Adesso ho cominciato da un'ora Quindi all'inizio del gioco E poi proseguiremo insieme Comunque detto questo ragazzoli Non perdiamo altro tempo Vi faccio vedere un po' Alcune funzioni del gioco E poi vi faccio vedere la battaglia Allora questo è il menu dei vari equipaggiamenti Praticamente per tutti i personaggi Logicamente ogni personaggio potrà Equipaggiare determinate tipologie di armi E determinate tipologie di armature e accessori Le abilità dei personaggi possono essere utilizzate Sia in battaglia che fuori Come per esempio quello di Ophilia Cura ferite Nel caso in cui si rimanga feriti Il personaggio non torna a piena salute Ma rimane ferito Quindi lo dovrete curare poi fuori dalla battaglia Come per esempio i Pokémon Non fate le battaglie di Pokémon Dovete curarli praticamente Fuori dalla battaglia O all'interno della battaglia logicamente Ogni personaggio ha un albero delle abilità Che potete apprendere E pian piano che ne apprenderete altre Vi si sbloccheranno altre di supporto Io sto andando praticamente a fare la quest principale Però vi voglio far vedere un pochino Come sono gli ambienti di gioco Pare che qui non si possa preseguire Vabbè giustamente Ah è totalmente tradotto in italiano Questo è un grande punto a favore Per la Square Enix Che ogni tanto ci pensa anche noi piccoli italiani Guardate c'è il mondo di gioco è troppo bello ragazzone Guardate quanto è fatto bene Non si può non amare Allora non continuo perché a far vedere Che cosa sta succedendo L'ho fatto vedere soltanto questo pezzettino Per farvi vedere che Il gioco è totalmente doppiato in inglese E mi piace un sacco anche l'effetto Che hanno utilizzato per far scappare fuori Praticamente le scritte in italiano Quindi i sottotitoli Le musiche del gioco Quindi la soundtrack è veramente bellissima In alcuni tratti adrenalinica In alcuni tratti praticamente Mette una tristezza assoluta Come in questo momento Però non continuo per non farvi spoiler Sulla storia Per chi per dire se lo volesse giocare Per chi poi vorrà seguire la serie Nel caso in cui ci fosse Allora il personaggio che ho al momento Oltre a Ophelia Che praticamente è dietro Accodata Vedete che gli corre dietro Praticamente Che è membro del pa... Si è membro del pa... No non si è membro del party E la... L'arciere Però Una ragazza Ora Praticamente che Emmit Vi farò vedere Praticamente La... La sua peculiarità Adesso dovremmo uscire E andare in una grotta Sicuramente ci saranno Dei combattimenti Vi farò vedere Sia i combattimenti Che la peculiarità Praticamente Della... Dell'arciere Allora guardate Vedete Ogni personaggio Ha come vi dicevo prima Ha la sua abilità unica In questo caso Se io mi avvicino A questo signore A questo NPC Praticamente Mi fa vedere La... La testa di una bestia E un omino Con delle ali Questo perché La peculiarità Praticamente Dell'arciere È sfidare le persone Praticamente Con delle bestie Che si possono catturare Cioè Quando Avremo un avversario Una bestia Che avremo contro Un mostro L'arciere Può catturarlo E poi utilizzarlo Praticamente In battaglia Al suo fianco Mentre Ophelia Praticamente Come Peculiarità Del suo personaggio Ha la possibilità Di convincere Un abitante Un NPC Insomma Un umano A seguirla E poi potrà Rutilizzarlo Praticamente In battaglia Compremente La stessa cosa Delle bestie Solo che Ophelia Lo fa con gli umani In poco parole Adesso vi faccio vedere Provoga Oppure conduci Conduci Abitante della città Forza 1 Logicamente poi Bisognerà vedere Ci sono tanti tipi Di NPC E ogni NPC Ha le sue abilità E la sua tipologia Di forza Evocabile 9 volte Conduci questa persona Conduci si Possa la fiamma guidare Il tuo cammino Salve sorella Permettimi di accompagnarti Mi fa piacere Vedete adesso Pure lui si accoda Tra un pezzetto Praticamente faremo Il trenino Del capodanno Ok una volta Praticamente fuori Dalla città Sarà come Pokemon Come Final Fantasy Ogni tot di passi Verremo attaccati Da determinati mostri Che sono nella zona Logicamente anche Le ambientazioni cambiano In base alle zone Adesso siamo Nella zona nevosa Ecco per esempio Questo è il primo Mostro che ci capita accanto Allora Le battaglie sono molto Fighe Perché Non solo bisognerà Beh attaccare Oppure fare magie E cose varie Ma bisognerà anche Scegliere la tipologia Di arma a utilizzare Ogni personaggio Può utilizzare Due o più armi In questo caso Per esempio L'arciere All'arco Oppure L'accetta Allora io Questo mostro L'ho già affrontato Quindi so che È debole All'accetta Poi vedete Ha anche altre debolezze Che io però Nel momento Non ho scoperto Ancora Quindi se io utilizzo Praticamente l'accetta Vedete c'è uno scudo Lì da una parte Vicino a Debole Praticamente Che se io lo attacco Praticamente con un'arma O con un elemento A cui lui è debole In base al numero di attacchi Che io farò Praticamente Quello scudo scenderà Adesso è a 1 Ma potrebbe essere a 2 A 3 A 4 A 5 A 9 E scenderà in base agli attacchi Una volta che con lo scudo Raggiungerò 0 Il mostro per un turno Rimarrà stordito Ora vi faccio vedere Allora per esempio Lo attacco con Con l'arco Che lui non è debole Guardate Non succede nulla Gli faccio danno Lui riattacca Perché era il suo turno E adesso Tocca Ophelia Allora Ophelia può Attaccare normalmente Come ha fatto Praticamente l'arciere Con un attacco fisico Oppure Cura ferite O luce sacra Vediamo luce sacra Vediamo se Per dire fa qualche effetto Luce sacra Sul mostro Ok Ok lui non è debole Alla luce sacra Vabbè però Comunque si è Gli ha fatto danno Ok guardate adesso Se invece l'attacco Con un'arma A cui lui è debole Dominio Perché lo scudo È arrivato a 0 Quindi lui Per un turno Sarà stordito Posso evocare L'abitante della città Per fargli danno Fa i danni De Cristo Sto fregno E lo ammazza Ok ecco qua Un altro combattimento Perché voglio farvi vedere Anche La L'abilità Praticamente Del Dell'arciere Vabbè Tanto ho rievocato Praticamente Gino Che attacca A bestia Allora Per esempio L'altro è sunnato Ok io posso fare Conoscenza delle belve Evoca belvola Belvola Evoca belva O cattura Allora per il momento Farò evoca belva Queste sono quelle Che ho catturato prima Praticamente Alcune di quelle Che ho catturato prima E l'inde Invece è il mio Fedele compagno Che ci avrò sempre È una sorta di Giacuaro Delle nevi Che ci avrò sempre Praticamente A portata di mano Mentre l'altro Funzionano a utilizzi Praticamente Quando tu le catturi Ti danno un tot di utilizzi Poi dovrai ricatturarli Se vuoi continuare Ad utilizzarli Per esempio Proviamo a tirare fuori Il ratto silvano Uno Di lì all'uno Perché Sono deboli Praticamente All'arco Non è finita qui Perché poi Allora Intanto abita La luce sacra Su questo Fa qualche cosa Se fossero deboli Alla luce sacra Uno dei loro due No nessuno Debra la luce sacra Perché La luce sacra È fighissima Conoscenza delle belve Cattura 100% probabilità Di successo Quindi vuol dire Che io adesso Praticamente Catturerò il mostro E lui E sarà utilizzabile Durante la battaglia Oh È debole al bastone Dai Non è debole La luce sacra È debole al bastone Del merda Va a cagare Logicamente le cose Da scoprire poi In giro per il mondo Sono veramente Per il mondo di gioco Sono veramente tantissime Questo era soltanto Un piccolo assaggio Per farvi vedere Come era il gioco Perché come vi ho detto Ragazzoli Io questo gioco L'ho aspettato tantissimo Perché sono un vero appassionato Di questa tipologia Di giochi Mi piacciono veramente tantissimo E quindi mi piace Condividerlo con voi Se il gioco vi è piaciuto Condividetelo con i vostri amici Per aiutarmi a crescere Io concluderò questa puntata Mi raccomando nei commenti Fatemi sapere Che cosa ne pensate del gioco E mettete un bel like Per aiutarmi a crescere Non sono tutti Il vostro comando Wolf Ciao a tutti ragazzuoli Mi sembra di sentire Il mio fratello Che aveva un grande angelo Nel Perù